Gennaro, per quali ragioni l'Alleanza per il Cambiamento ha rinunciato a concorrere alla competizione elettorale per le amministrative di Casalatore? Questa risposta credo di avere in parto già risposto nella domanda precedente. Dicevamo prima che l'Alleanza per il Cambiamento è un progetto che prevede che alla base di qualunque altra premessa politica ci sia l'idea e la volontà di promuovere e cooperare quel grande processo di cambiamento, di rinnovamento e di discontinuità che la popolazione di Casalatore, ma non solo quella di Casalatore, richiede da tempo. Quindi questo tipo di progettualità ha alla sua base queste solide radici senza le quali qualsiasi altro tipo di azione politica sarebbe inutile. Quindi la nostra intenzione rimane quella di continuare a lavorare per dialogare con tutte le forze politiche che ritengono che sia venuto il momento di mettere insieme le migliori energie che il Paese dispone e per cercare davvero di dare una grande esterzata e permettere anche a Casalatore finalmente di voltare pagina.